Il ministro della salute Roberto Speranza ha deciso la Toscana rimane in zona di rischio covid arancione anche la prossima settimana, ma c'è una novità di rilievo. Dalle 14 di sabato 17 aprile passano in arancione anche le due province toscane, i comuni del Senese e del Pisano, rimasti in zona rossa questa settimana per l'incidenza ancora troppo alta del contagio da covid-19. Si tratta della città metropolitana di Firenze e della provincia di Prato, l'unica che aveva date ancora al di sopra della soglia dei 250 nuovi casi positivi ogni 100.000 abitanti, e poi dei comuni di San Mignato, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Poggi Bonzi, San Gimignano, Colle Valdelza, Casoledelza e Radicondoli. In una nota la regione ha spiegato che il provvedimento è stato assunto alla luce del fatto che oggi si è riscontrata in Toscana una consistente riduzione dell'occupazione dei posti letto covid in ospedale, 84 in meno, mentre in contemporanea le dosi del vaccino anti-covid somministrate sono arrivate a 964.000.